Siamo divenuti a tutti gli effetti proprietari del marchio IWV e di parte degli immobili a seguito di una gara per l'assegnazione di questa prima parte della struttura aziendale e quindi possiamo dire che a breve, appena saranno conclusi i litri burocratici, potremo iniziare anche gli investimenti sugli immobili. Manca solo la formalizzazione, ma ormai il marchio IWV è stato acquisito dalla holding Tradizioni Associate. I forni dell'azienda furono spenti per la prima volta nel febbraio 2022 a causa dell'aumento esponenziale ed insostenibile del costo delle materie prime. Quattro mesi più tardi vennero riecesi, ma in maniera temporanea, fino al definitivo stop del novembre successivo. Lo scorso dicembre infine la svolta, l'affitto del ramo d'azienda e adesso ancora un passo in avanti verso il rilancio. Innanzitutto ho la cospicua dose di investimenti che abbiamo sostenuto per lavorare sulla sistemazione del magazzino che è stato riportato all'interno dell'azienda e per il suo ripristino in termini di prodotto e di quantità. Stiamo facendo lavorare aziende del territorio, stiamo facendo lavorare aziende italiane, abbiamo aggiunto alcune referenze di importazione per completare rapidamente il catalogo e in questo mese di maggio ricominceremo a fatturare come azienda finalmente i prodotti. Attualmente i dipendenti sono in cassa integrazione a rotazione. L'ammortizzatore sociale avrà una durata di 18 mesi interessando un massimo di 10 persone sulla trentina occupate attualmente nello storico stabilimento. Quindi riusciamo a farli lavorare secondo necessità. Il personale impiegatizio lavora molto di più, riusciamo a coprire le molte richieste che abbiamo avuto in questi mesi di prodotto. Slita invece alla primavera 2025 la riaccensione dei forni. Il problema grosso è che dobbiamo prima di investire sulle attrezzature mettere in sicurezza l'immobile perché purtroppo tutta l'attrezzatura che era presente all'interno dello stabile è in stato fatticente e quindi dovrà essere dismessa ma anche l'immobile stesso prima di poter essere occupato deve essere messo in sicurezza. Quindi ci vorrà qualche mese per questi lavori e quindi da quelli che erano i nostri tempi che prevedevamo cioè entro il fine anno di partire col soffiato dovremo slittare alla primavera del prossimo anno.